La presenza del sindaco di Riace Mimmo Lucano come ospite della trasmissione Rai che tempo che fa di Fabio Fazio diventa un caso. I parlamentari della Lega in Commissione Vigilanza hanno chiesto che la presenza del sindaco promigrante venga annullata poiché Lucano è indagato dalla magistratura. Domenica 21 ottobre il sindaco di Riace, Mimmo Lucano, sarà ospite di Fazio a che tempo fa. Nonostante la revoca agli arresti domiciliari è evidente come Lucano sia accusato di aver violato norme civili, amministrative etonali sull'appoglienza. Chiediamo quindi che Fazio non chiami il sindaco in trasmissione. La TV pubblica non può divulgare modelli distorti sull'onda di strumentalizzazione ideologica. Sulla questione prepareremo. Inoltre un'interrogazione in Commissione di Vigilanza Rai dichiarano i parlamentari della Lega membri della Commissione di Vigilanza Rai, Paolo Piramani, Massimiliano Catecani, Semona Pergreppi, Dimitrico In, Igor Riezi, Giorgio Maria Bergesi e Umberto Frusca. Immediate le prime repliche da parte di esponenti dell'opposizione. La Rai non è telepadana ricorda ad esempio l'esponente di Leoni Pola Fratogliani.